No, oggi non ha una cosa. Diciamo che questa cosa è successa in Cina. La prima quattro mesi della relazione, la media siriana sta parlando della vita in Siria normale, come se non c'è niente. Perciò un ragazzo ha pensato a fare questa pagina per raccontare la storia che è successa in Cina. Per esempio, se c'è una manifestazione a Damascus, dicci questa manifestazione in Pekin. Il nome del presidente Bashar è diventato di Jintao. La regione Hamzou si chiama Hamzou. E così hanno cambiato tutta la storia che è successa in Cina. La seconda pagina è che quando le forze di casa hanno entrato Hamz, saranno le carri armati più delle macchine. Così un ragazzo ha pensato di fare un negozio per pulirci le carri armati. Così si via l'operazione fino alla vittoria. Grazie.